Questa è la versione 1.4, sul mio canale potete già trovare anche il longplay della versione precedente. Questa nuova versione non apporta grandi modifiche, c'è giusto qualche correzione, però ne ho approfittato per realizzare un altro video, in questo modo vi informo che c'è una nuova versione, in descrizione trovate il link per scaricarla, e poi ho realizzato anche un video più completo, poiché nel precedente longplay mi ero dimenticato un boss nascosto e un livello nascosto, già presenti anche nella precedente demo. Se i miei video vi piacciono e li trovate interessanti, un like, un'iscrizione al mio canale e la condivisione di questo video supportano il mio lavoro. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.